Continua a far discutere il piano del paesaggio, fino a fine mese c'è la possibilità di presentare delle opinioni, dei suggerimenti, però ancora non si riesce a trovare questa quadra. Io mi auguro che la settimana prossima sia la settimana giusta, buona per fare la sintesi rispetto alle problematiche che sono emerse in maniera molto palese, sulle quali non sto a tornare, che invitano tutti a riflettere, a cambiare nel rispetto pieno dell'ambiente, del paesaggio, delle leggi, ma a cambiare il testo che è stato adottato in Consiglio. Con la convinzione da parte di tutti che lavoriamo per il bene della Toscana e che l'agricoltura è uno degli elementi di fondo sulla base del quale costruire sviluppo e crescita di lavoro e di ricchezza in Toscana. C'è una grande sintonia con il Presidente, con l'assessore Marson, con l'intera giunta, per cui credo si possa guardare con fiducia a quello che avremo di fronte. Tra l'altro il settore agricolo è un settore che sta dimostrando notevole vitalità. A partire dal 2018 ci sarà anche Expo Rurale, proprio a Firenze, che metterà un po' in evidenza tutti questi aspetti vitali dell'agricoltura toscana. Se lo testimoniano i dati, non sta a me di nuovo sottolinearlo, in un momento di grande difficoltà, che investe anche il mondo agricolo e della trasformazione agroindustriale, ma c'è una crescita costante, faticosissima, però c'è una crescita. Dobbiamo evitare che queste prospettive siano ulteriormente appesantite da situazioni generali. Oggi dobbiamo mirare la nostra attenzione anche a un altro grande problema, che è il credito. Sul credito non ci sono più scusanti da parte delle banche. Dobbiamo in tutti i modi far sì che i soldi a credito che le banche debbano dare alle imprese lo facciano, lo diano. Perché non è più pensabile che noi mettiamo a disposizione le risorse europee, che sono pari a quasi un miliardo nei sette anni, che coprono il 40% degli impegni finanziari delle imprese. E l'altro, o le imprese ce l'hanno, oppure è il ruolo del sistema bancario. Quindi dobbiamo ora cominciare a lavorare con le banche in maniera stringente, perché nel momento in cui facciamo i primi bandi, e io mi auguro di poterli fare fino a ottobre, primi di novembre, vi siano poi le condizioni per le imprese di realizzarli.